ambizione cerchio firenze 77 attraverso roberto setti scuola del cerchio firenze 77 a cura di vb l'ambizione è il nutrimento dell'io ed il suo appetito 25 c vedi vizio 50 c vedi i tuoi fratelli che si affannano per raggiungere le posizioni sociali importanti sappi che fanno tutta quella fatica per convincersi dell'inutilità della loro ambizione credi forse che chi si affanna per essere al centro dell'altrù e attenzione per accumulare sempre di più sia più sereno di chi ha superato tutto ciò e meglio comprenda il valore della vita ti auguro fratello caro che tu possa comprendere il valore ed il vero significato del vivere perché così facendo non sarai più trascinato dalla preoccupazione di cose che non debbono preoccupare e dalla cura ansiosa di ciò che non vale dal desiderio di possedere ciò che veramente mai può essere posseduto nel vero senso e ciò corrisponde all'ineffabile serenità e beatitudine della vita liberata 142 f